Ricordare la figura e i valori di Enrico Bellinguer a 100 anni dalla sua nascita attraverso la testimonianza di chi l'ha vissuto in prima persona a stretto contatto. Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio dei Ministri e con alle spalle una lunga carriera politica è stato ospite ad Andria per commemorare il centenario della nascita di Bellinguer, figura iconica della Prima Repubblica, segretario del Partito Comunista Italiano dal 72 all'84, anno della sua dipartita. In quegli anni Massimo D'Alema era segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Un momento di dialogo e confronto attorno alla figura di un politico che ha lasciato un'impronta nella storia italiana. La cosa che mi colpisce di più oggi è il fatto che un uomo politico che è nato 100 anni fa ma che poi soprattutto è morto quasi 40 anni fa continua ad essere ricordato nel nostro paese. Si vede che evidentemente è una vita che ha lasciato un'impronta. E che forse oggi dopo tanti anni di antipolitica, di populismo c'è anche un bisogno di tornare alla politica, quella vera, quella con la P maiuscola. Forse anche per questo il ricordo di Berlinguer è vivo. Una figura ancora attuale i cui valori, ha spiegato D'Alema, possono rappresentare un esempio per la scena politica di oggi a larghi tratti contraddistinta dall'incoerenza di ideali. È stato scritto di lui che Berlinguer non era un predicatore di giustizia, era un uomo giusto, che è una cosa diversa, cioè una persona non scissa tra la parola e la sua vita. Forse questa coerenza è un grande valore. È un tempo in cui nel corso di una legislatura 300 parlamentari cambiano partito. Uno che alla fine ha detto sono orgoglioso di non avere mai tradito gli ideali della mia gioventù. E questo era un bel messaggio. Nella sala consigliare di Andrea era presente l'amministrazione guidata dalla sindaca Giovanna Bruno, tra gli ospiti anche Laura Marchetti, antropologa e sottosegretario all'ambiente del governo Prodi. È stata lei a raccontare uno degli aspetti più significativi della figura di Berlinguer. Io soffro molto per una cosa che Berlinguer aveva, questo rapporto fra politica e cultura. Non fra la politica e gli intellettuali, ma l'idea, il sogno che ogni uomo, anche gli analfabeti, anche i contadini di Andri, anche gli operai di Taranto, avessero una parte spirituale e intellettuale da esprim. E il partito con lui, questo è stato una grande scuola collettiva, una scuola in cui il popolo non era subalterno, ma il popolo pensava. E pensando faceva politica. L'eredità lasciata da Berlinguer dunque si contraddistingue di valori e modus operandi che sembrano appartenere al passato. Riscoprirlo, a quasi 40 anni dalla sua prematura scomparsa, è stato l'obiettivo dell'incontro a Palazzo di Città. Se pensiamo al concetto anche di austerità, che è molto simile e integra il concetto di limite allo sviluppo che noi abbiamo, ma anche di moralizzazione della politica. Ci sono una serie di valori ancora che dovrebbero essere perseguiti e io penso che Berlinguer, essendo patrimonio culturale di tutti gli italiani, debba essere riscoperto.